Gioi Saputo, il patron del Montreal Impact, interessato prima all'acquisto del Bologna e ora a quello del Parma, almeno stando alle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, conosce già i dirigenti gialloblu. Sia lo scorso gennaio che durante l'ultimo mercato estivo aveva infatti individuato come possibile colpo per la sua squadra canadese il centravanti crociato Amauri. Ci fu qualche contatto con l'agente del giocatore e con l'amministratore delegato Pietro Leonardi, poi non se ne fece nulla. Ma c'è di più. Nell'autunno 2013 il Magnate, di origini italiane, a capo di un gruppo di latticini leader nel mercato nordamericano, mise gli occhi su Fantantonio Cassano. Un corteggiamento che però non portò ad alcun esito, in quanto il Parma aveva fatto di Fantantonio la bandiera del centenario e non aveva alcuna intenzione di privarsene. Inoltre il numero 99 crociato non ha mai nascosto il proprio disinteresse verso certi tipi di destinazioni. Ora, saputo che è un amante del calcio italiano e dei giocatori di qualità, potrebbe decidere di acquistare il Parma anche grazie alla presenza inorganico del campione barese. Il Parma, a differenza del Bologna, è già in Serie A. Ha una storia recente di maggiore blasone, un centro sportivo di altissimo livello. Insomma, sulla carta ci sono tutti gli elementi affinché gli americani concludano il proprio affare nel calcio italiano, restando sulla Via Emilia, ma spostandosi di qualche chilometro. Intanto, la formazione di Donadoni è pronta al test amichevoli in programma domani al Tardini alle 19 contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, match dal quale potrebbe emergere qualche indicazione interessante a proposito di alcune variazioni tattiche allo studio di mister Donadoni. Non trovano invece fondamento le notizie apparse su alcuni organi di stampa relative al possibile rientro dopo la sosta di Gabriel Paletta. Il difensore è stato operato lo scorso 27 settembre alla schiena, pressoché impossibile averlo a disposizione a meno di un mese di distanza. La sosta dopo la quale il colosso di Buenos Aires sarà disponibile è probabilmente quella natalizia.